E' 1 a 1 al centro sportivo di Via Candiani tra nuova torte a testa e tor di quinto per la dodicesima giornata del campionato giovanissimo Elite fascia B, girone B. Al gol siglato all'ottavo minuto del secondo tempo da parte di Santilli su calcio di rigore risponderà la nuova torte a testa con il pari siglato nel finale da Selle al trentottesimo della ripresa. E' il tor di quinto ad avere la prima vera occasione da gol con Santilli che mette il pallone oltre la traversa, poi nuova torte a testa che tenta questa percussione con il calcio d'angolo e tor di quinto che si salva in affanno. Nuova torte a testa che si renderà pericolosa nel corso della prima frazione di gioco in altre due occasioni, entrambi dalla sinistra con il pallone, questa volta lanciato in profondità e squarcia a tentare il destro, para il portiere degli ospiti che tiene il pallone lì. Altra occasione ancora sulla parte sinistra, questa volta saranno due i giocatori della nuova torte a testa ad arrivare alla conclusione ma il pallone finirà ancora alto sopra la traversa. Torte a testa che si rende pericolosa anche nel finale di prima frazione di gioco con la conclusione che terminerà oltre la traversa. Torre di quinto che riuscirà così a salvarsi, ripresa che si apre con il Santilli che tenta la conclusione in area di rigore, palla che termina però sopra la traversa, poi è il calcio di rigore, minuto numero 8 della seconda frazione di gioco, fallo di mano in area di rigore e direttore di gara che fischierà il calcio di rigore, ci va Santilli a batterlo con il sinistro, palla da una parte e portiere dall'altra, palla sotto l'incrocio e 1-0. In favore del torte a testa, reazione da parte della torte a testa con squarcia che tenta la girata, il pallone però viene parato dal portiere degli ospiti. Ancora torte a quinto che si rende pericoloso invece nel finale chiudendo nella sua area di rigore la nuova torte a testa, il pallone dalla sinistra, dalla destra arriverà in area di rigore, la girata però non sarà perfetta e De Bonis potrà tenere il pallone lì. Ultima vera occasione con Conti che lascia questo pallone al numero 8 Vaini Martini, palla all'interno dell'area di rigore e se Selle che metterà il pallone in rete, 38esimo minuto della ripresa è 1-1 tra nuova torte a testa e tor di quinto.